30 di agosto 2012 siamo davanti al rifornimento di metano di montalto questa è la situazione santa maria di settimo per la precisione l'unico rifornimento in provincia di cosenza sempre operativa e questo e siamo sempre qui a fare la fila mediamente 20 minuti e mezz'ora ogni volta ringraziamo comunque il gestore di questo impianto che è sempre molto disponibile apertoci agli orari continuativi dalle 7 30 alle 22 la domenica dalle 8 fino alle 20 tutto questo durante il periodo estivo quindi tutto sommato i disagi sono minimi ci sono anche oggi 34 gradi non è male che per lo più si tratta di veicoli piccoli tipo pande fiorini altro che fanno metano subito quindi perdiamo poco tempo se si trattasse di multiple fossero tutte molte ci vorrebbe questa sera le 10 per finire il rifornimento speriamo che finisca presto questa apocalisse di solito questa problematica si risolve alla fine dell'estate un'occhiata a meteo battuta d'arresto per l'estate con la previsione di temperature impicchiate a protezione civile annuncia all'arrivo di piogge temporali sul centro nord con diffuse precipitazioni e anche con la tutta la parte all'estate più difficile perseguità di potere altre volte gli obiettivi sono inseriti oppure e non è anche sempre che adesso per dare un'eclato due spazi è una musica essere la prima volta che ci criteria come Grazie.